a freddo questa volta a freddo e ho qui una vittima è un amico che mi aiuterà in questa recensione perché in realtà mi sono chiesto vedendo una delle solite interviste delle persone su un certo argomento su cui erano preparati sono chiesto ma un'intervista a uno che di un argomento non sa un cavolo come verrebbe sì lo so mi faccio questi pensieri strani quindi eccomi qua parlerò di un film che in realtà ho già recensito nel primo canale lui ancora non sa quale film è l'ho nascosto qui vedete ancora bello chiuso questo film l'ho visto in spagna forse comincia a capire credo di sì avevo già fatto a suoi tempi la recensione e quindi da recensione a caldo diventa freddo signori attrapa la bandera ecco questo è il film di cui parleremo oggi film che avevi recensito nel vecchio canale ma sì mi ero giusto lasciato un po andare 49 minuti 49 minuti di recensione ragazzi folle ero folle all'epoca a parte che io seguo stroncando l'orrore che fa video anche più lunghi di 49 minuti ma bravissimo ve lo straconsiglio vi consiglio anche il suo canale però è videotunes games metterò il banderino sotto informativo andate anche da lui che è una bestia di recensore pure lui bravo davvero tu li fai belli mi trattengono poi quindi attrapa la bandera ovviamente sarò più breve anche se potrei parlare delle scene infatti l'altra volta ancora non c'era la legge delle recensioni a caldo a freddo quindi anche se era nuovo avevo proprio parlato di tutto il film ecco perché era durato 49 minuti avevo voluto spulciare ogni singola scena di questo di questo film qua non riesco mai a inquadrare bene vabbè poi vi metto l'immagine non rompere vabbè lo poggio quasi no quindi attrapa la bandera è stato il primo film che ho visto quando sono andato in erasmus in spagna e devo dire che mi avevo incuriosito non solo perché era un film d'animazione che poi ho cercato su internet l'informazione ho scoperto che era proprio un film d'animazione spagnola cioè fatto e prodotto in spagna e tra l'altro attrapa la bandera non è stato neanche esportato in italia non c'è la traduzione in italiano e poi è un film bello c'è un peccato che simili capolavori non passino in alcuni paesi cioè ci sono delle schifezze che vengono vendute ovunque in qualunque lingua in qualunque sottotitolo e attrapa la banera e capolavori come attrapa la bandera niente davvero un'ingiustizia anche perché ora secondo te no se tu leggi il titolo attrapa la bandera che vuol dire ruba bandiera no allora tu che cosa potresti pensare di un film del genere che si intitola così da come lo presenta sembra una di quelle di quelle come posso definire uno di quei film della disney e pensi che magari lo trovi pure in italiano in inglese in tutte le lingue sì ma poi quello che deturba ancora è qua la copertina perché tu ti attrapa la bandera però vedi che questo è in tuta spaziale il protagonista beh la curiosità c'è sì perché poi ci sono due razzi qua uno tra l'altro bianco un altro poi vi metto la copertina la locandina la copertina ve la metterò insomma lo vedrete cioè qui c'è appunto uno shuttle bianco questa nave che sembra quasi aliena nera quindi già si potrebbe intuire no che c'è qualcosa tipo bene e male qualcosa del genere no infatti poi qui ci sta il cattivo si vede qui all'angolo perché c'è con la pistola insomma loro sono i classi è il classico trio sì certo il classico ragazzo cicciotto ma geniale sì la ragazza in gamba e il protagonista classico libero un po' imbranato e ovviamente c'è anche la mascotte qua poi vabbè lo vedete la mascotte che questa lucertola che c'è questo coso volante tipo drone insomma di quale anno è questo film e questo è quando sono stati in spagna quindi infatti se non sbaglio del 2000 del 2016 dove aspetta però visto che siamo facciamo un controllo in diretta perché io adesso sono curioso voglio vedere comunque comunque da come come te lo presentano pare essere un film della disney anche se in realtà è scritto paramount della paramount ma penso che sia stato più che altro la sponsorizzazione 2015 ah ecco 2015 in spagna tra virgolette si fa perché non mi ricordo se erano passati tre anni o tre anni e mezzo ha ricevuto da imdb 5.9 quindi 6 e da film affiniti 5.4 decimi 5.4 decimi beh sono d'accordo sul voto di 5.5 di 5.9 su 6 non su quello 5.10 io gli darei 10.10 eh ecco il massimo sì quattro triangoli verdi assolutamente c'è perché questo film non si prende sul serio è totalmente demenziale però è estremamente logico ora la trama in sordina qual è perché attrapa la bandiera la bandiera e la bandiera in questo caso è la bandiera americana che si trova sulla luna infatti si ispira praticamente perché si intitola così perché proprio come il gioco ruba bandiera che devi arrivare prima di quell'altro a prendere la bandiera solo che qui invece di un fazzoletto su una spiaggia che si corre si corre con le astronavi si cerca di arrivare sulla luna per la bandiera americana è quella la bandiera di attrapa la bandiera e ho già quando avevo letto questo c'è detto ma che genialità è all'inizio mi sembrava una mezza stupidaggine ma poi quando ho visto il film cavolo io me l'ho rivisto altre due volte al cinema in spagna e ho voluto vederlo altre due volte e insomma la trama qual è c'è questo ragazzo che è il figlio di un capitano astronauta della nasa in realtà anche il padre del suo migliore amico cicciotto è un astronauta e infatti loro vivono vicino a cap canavera stanno là vicino c'è anche l'ospizio dove vive il nonno che anche lui è stato un grande astronauta e qua cosa succede succede che il cattivo il classico texano ignorante magnate del petrolio iper ricco dichiara che secondo lui l'atterraggio sulla luna era finto qui ovviamente si sono ispirati alla classico complottismo e l'atterraggio sulla luna era finto cosa che hanno fatto anche vede nei griffini insomma dappertutto sempre con questa paraculata per dire l'atterraggio sulla luna era finto e non saranno mai sufficienti questi film che praticamente sputtanano ogni tipo di complottaggio io perché ce ne sono anche fin troppi ultimamente quindi questo qui di che il cattivo dichiara che proprio per tutti per tutti è il buono si maschera insomma come il buono dichiara che lui vuole smascherare questa falsità della bandiera sulla luna e andrà sulla luna per dimostrare che non c'è nessuna bandiera e qui negli stati uniti si preoccupano perché tra l'altro il presidente è una presidente femmina c'è la presidentessa degli stati uniti vuole impedirglielo perché sa già che se andrà sulla luna sarà per togliere la bandiera e far credere quindi che l'atterraggio non ci sia mai stato riscrivendo la storia e quindi devono fermarlo e anticiparlo andando prima di lui sulla luna e salvare la bandiera ecco perché attrapa la bandiera solo che questo cattivo venendo a sapere che la nasa si sta organizzando per andare il prima possibile sulla luna per dimostrare che invece la bandiera c'è ecco che lui fa dei sabotaggi sul dello shuttle per impedire che partano durante tutto questo il ragazzo riesce ad avere contatti col nonno che non si parlavano mai il padre non parlava mai con suo padre quindi con il nonno del protagonista perché a quanto pare il padre se n'era andato di casa quando lui era ragazzo quindi c'è una certa diatriba familiare insomma un po però non odio qualcosa di più che altro di doloroso di non voler parlare insomma c'è anche una bella storia sentimentale qui però appunto vista l'emergenza il ragazzo riesce a far far temporaneamente pace al padre e al nonno e quindi tutti insieme si organizza insomma vabbè il figlio è soltanto lì come spettatore ovviamente però come mai allora la tuta beh in realtà anche se è demenziale hanno reso molto giusto il fatto che lui praticamente finisca per fare questa missione spaziale e dimostra anche quanto il cattivo sia pirla perché il cattivo praticamente il vero obiettivo di lui è andare sulla luna per prendere l'elio 3 e qui c'è un'altra diceria ormai smontata da tempo ma sempre dei complottari sul fatto che sulla luna in realtà sono state fatte delle basi segrete per estrarre qualcosa che si trova sulla luna che si chiama elio 3 che sarebbe tre volte più potente dell'energia nucleare quindi e con una risorsa sufficiente ad andare avanti per millenni insomma è capitato in vari film di fantascienza che si parlasse di questo elio 3 sulla luna in questo film c'è davvero l'elio 3 in questo film attenzione non cominciate e quindi di lui vuole andare sulla luna per estrarre l'elio 3 ed avere il monopolio di questa energia praticamente venderà a carissimo prezzo l'elio 3 alle popolazioni della terra e che non accetterà lo disintegrerà con l'elio 3 praticamente o paghi o mori insomma o la borso la vita all'estrema potenza quindi c'è questa gara tra il cattivo e la nasa per arrivare prima non solo salvare la bandiera ma anche per evitare la vincita del cattivo che prenda l'elio 3 tutto per sé anche se loro ancora non lo sanno quello dell'elio 3 per ora pensano solo della bandiera dell'elio 3 lo scoprono più avanti insomma però qui succede la deficienza del cattivo perché va ok che aveva sabotato il modulo di volo e aveva anche fatto infortunare il padre del bambino si rompe la gamba ed ecco in effetti che succede una cosa che rischia di ripetersi insomma in passato praticamente il nonno del protagonista quindi il padre di suo padre doveva andare sulla luna nella missione del 69 ma si era infortunato e quindi non era potuto andare la sua unica occasione di andare nello spazio persa e questo è stato il motivo per cui a quanto pare si è distaccato dalla famiglia alla fine si è allontanato proprio talmente tanto rancore dentro di sé che non è riuscito a superarlo e visto che la cosa il figlio vede che sta succedendo di nuovo cioè col padre che si è rotto la gamba non può andare sulla luna è depresso lui teme comincia a vedere una specie di maledizione nella famiglia che lui vuole spezzare almeno uno di noi dovrà andare sulla luna e quindi lui fa un piano con i suoi amici per imboscarsi nello shuttle dopo un'adeguata preparazione proprio artigianale al massimo che qui c'è una sequenza che fanno vedere le preparazioni del prima prima era del padre adesso invece del padre dell'amico e degli altri il padre purtroppo non ci può andare più prima fanno vedere loro che si allenano con le cose della nasa e poi bambini che fanno le stesse cose ma in maniera molto più grezza e artigianale cioè tu pensa che per imitare la centrifuga e il coso si attaccano tipo a frullatore ventilatore lui si fa partire a razzo per superare una cosa veramente assurda poi allora arriva il momento di partire però come mai allora parte solo lui in realtà anche la ragazza e il nonno e lui rimane a terra praticamente perché viene beccato perché loro si volevano imbucare solo che succede il cattivo e qui ha fatto la scemenza ha sabotato di nuovo tutto quanto mandando un suo uomo a modificare il timer della partenza dello shuttle che da dieci ore arriva a dieci minuti quando il nonno entra nello shuttle per far uscire i due che succede che purtroppo si avvia tutto quanto automatico per la partenza tutti vengono presi alla sprovvista e visto che purtroppo è tutto automatico e non c'è modo di fermarlo praticamente l'unica soluzione sarebbe di fare l'eject d'emergenza ma il bambino che vuole andare sulla luna per spezzare la maledizione calcio e sfascia il sistema di espulsione quindi l'unica soluzione che hanno purtroppo è partire ecco quindi perché dico che anche se è molto trash nel senso di demenziale non lascia niente al caso non ha buchi di sceneggiatura questo film trovatemi un film che non ha buchi di sceneggiatura si contano sulla punta delle dita cioè vabbè qualche incongruenza ce l'ha ovviamente ma sono cose di poco conto sicuramente sì però appunto non ci sono buchi che tu chiedi ma com'è successo quello o quell'altro sì vabbè c'è poi la cosa trescissima che in dieci secondi proprio che c'è anche la lucertola con loro per far andare a uscire nello spazio gli mettono un guanto un po di scotch di nastro per farlo stare nello spazio c'è nasa le vostre tute e te noi in dieci secondi abbiamo fatto una tuta d'astronauta per lucertole vabbè quello è veramente la cosa più trescissima di tutto quanto però vabbè lo accetti perché ti diverti solo e basta e quindi già perché il cattivo ha fatto una cosa così una cosa stupida perché guarda un po' quando ormai hanno scoperto il vero motivo per cui lui deve andare sulla luna e quindi mandano la polizia a fermarlo nella sua mega villa lui in quel momento parte con il suo razzo personale non sono riusciti a fermarlo contemporaneamente parte il razzo della nasa quindi non so se avete capito prima vi ho detto che il lancio lo fa lo fa accelerare da dieci ore che mancavano a dieci minuti e quindi partono insieme se il cattivo si fosse fatto i bip suoi loro sarebbero partiti dieci ore dopo ti rendi conto che avrebbe avuto un vantaggio di dieci ore già infatti invece pirla facendo così ne ha fatti partire nello stesso momento suo il cattivo che si frega con le sue stesse mani bellissimo poi non vi voglio dire niente riguardo al suo fedele servitore all'altro suo assistente vi sto già dicendo troppo è perché comunque voglio che ve lo troviate ma guarda anche se lo trovate solo in spagnolo ragazzi lo capite io ero appena arrivato in spagna di spagnolo sapevo poco niente ma questo film l'ho capito non è che è fatto bene lo capisci anche se delle parole ne capisci due tre poi ovviamente ho migliorato lo spagnolo ho capito molto di più di quello che dicevano però appunto si capisce e quindi loro arrivano sulla luna si scontrano col cattivo ovviamente riescono a sconfiggerlo elio tre ciaone perché fanno una reazione a catena e ciao a tutto ma il bello è come lo sputtanano perché lui praticamente si sfoga con loro perché tanto dice siamo sulla luna chi vuoi che mi senta il bello è che la lucertola aveva il cellulare collegato col satellite che era collegato con tutti i satelliti degli altri e invece tutto il mondo ha sentito il suo sfogo si è veramente sputtanato a livello internazionale intermondiale perché tutta la terra stava collegata per sapere che stava succedendo che stava tutti erano collegati per sapere che cacchio stava succedendo sulla luna poi vabbè ci sono i classici cliché cioè loro due che sono amici poi il nonno commenta lui qui con la fidanzata siamo solo amici poi alla fine si inciuceranno insieme è quel bel classico così insomma quindi quindi il cattivo sconfitto c'è veramente roba demenzialissima e bellissima tornano appunto sulla sulla terra se ne salvi tutto a posto cioè appunto io ve lo stra mega consiglio questo film è oro puro sul serio devo faticare per trovare un difetto in questo film è veramente qualcosa di meraviglioso e io appunto ve lo stra consiglio ok basta così per essere uno che non l'ha mai visto un film del genere però in accattivante sì che poi vabbè la grafica è quella che è abbastanza semplice come puoi vedere c'è abbastanza cartunesca sembra anche sembra uno di quei capolavori della disney solo che ovviamente non è stata fatta dalla disney ma dalla paramount a quanto leggo qui no la paramount lo presenta la paramount è quello che lo presenta chi sia chi l'ha realizzato ah già aspetta forecast pictures ah forecast pictures deve essere chissà se è della zona del se è uno studio spagnolo oppure ma di sicuro perché qua tutti i nomi spagnoli vedi quindi però appunto perché l'ho detto è una produzione interamente spagnola e infatti io quando ho visto che non sarebbe uscito in italia questo appena è uscito sei mesi dopo l'uscita dal cinema ho visto che era uscito l'ho preso l'ho preso subito e me lo sono portato qua me lo sono rivisto altre volte perché ti intrattiene molto davvero cercatelo compratelo perché adesso penso che lo troviate a 12 13 euro cioè io l'ho pagato 14 e quindi sono passati quasi cinque anni sarà calato ma anche seppure l'ho trovato a 15 euro lì vale non ci sono film a 30 euro che reggono questo quindi ve lo straconsiglio veramente è un film che ti prende in ogni scena quindi ok abbiamo fatto anche troppo 18 minuti basta così perché se no se no torniamo a imparare a quel video lì torniamo alla fine non t'ho fatto l'intervista non importa non importa tanto comunque anche se non una compagnia dai infatti infatti la prossima volta però dobbiamo parlare di un film che abbiamo visto entrambi così facciamo meglio dai infatti infatti come abbiamo già fatto con la recensione di detective pikachu e quell'altro come si chiamava infinity war ah sì ok bene allora ci vediamo alla prossima ragazzi grazie per aver visto questo video e quindi mi raccomando mettete like dislike no dislike no e quindi ci vediamo alla prossima recensione ciao ciao ok andiamo a magna grazie a tutti